Il settimo corso di perfezionamento per inviati in aree di crisi, intitolato alla giornalista Maria Grazia Cutuli, è stato presentato alla stampa nella sala Montezemolo al Palazzo Salviati, dove ha sede il centro altistudi per la difesa. Nel 2001 l'inviata del Corriere della Sera moriva in Afghanistan, insieme ad altri tre colleghi stranieri colpita dalle raffiche di Kalashnikov, mentre percorreva il tratto di strada che conduce da Jalabad a Kabul. Organizzato dalla Fondazione Onlus Cutuli, grazie alla collaborazione dello Stato Maggiore della Difesa, dell'Università Roma Torvergata, della Croce Rossa Italiana e del Ministero degli Affari Esteri, ha lo scopo di preparare i cronisti che devono lavorare nelle aree a rischio ad affrontare al meglio eventuali condizioni di pericolo. L'ammiraglio di squadra Donato Marzano, capo ufficio generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, nel suo intervento ha tracciato un quadro dei contesti internazionali che ha abbracciato intere regioni del Medio Oriente e dell'Africa per arrivare alla Russia e all'Ucraina, zone in cui si trovano ad operare giornalisti e militari e le varie organizzazioni governative e non, in situazioni numerose e complesse ad alta conflittualità che mettono in crisi equilibri consolidati. L'ammiraglio Marzano, in una situazione di crisi come quella che viviamo in questo momento, un'escalation inaudita di violenza, quanto è importante la formazione non solo dei militari ma anche dei giornalisti che fanno gli inviati di guerra nelle aree di crisi? L'esperienza che ci viene da sette anni di corsi, ormai questa è la settima edizione che è partita, ci dice che di fatto è importante che il personale che si muove nei teatri operativi, complessi, articolati e rischiosi come ce ne sono in giro per il mondo, abbia un'idea di cosa vuol dire muoversi appunto in quelle situazioni, cosa fare in situazioni di crisi o di pericolo, a chi fare riferimento e soprattutto conoscere quella che è la controparte naturale, che sono i comandi militari delle varie coalizioni italiane che operano sul posto. Il direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, ha quindi spiegato come sia diventato difficile capire cosa succeda nelle menti e nei cuori di persone che diventano strumenti di guerra in una voragine di inciviltà. Lo abbiamo sentito ai nostri microfoni. Noi eravamo abituati a un mestiere dell'inviato di guerra degli anni 60 o di anni anche precedenti che sostanzialmente stava dietro una linea del fronte. Un paese ha bisogno di giornalisti liberi che siano anche in grado di segnalare in un'opera di trasparenza, che certo qualche volta magari fa pugni con la stessa sicurezza e ce ne rendiamo conto, in un'opera di trasparenza come avviene nei paesi democratici, in modo che possa segnalare le criticità alla classe dirigente del proprio paese ma anche alle stesse istituzioni militari. Il termine della cerimonia, le autorità presenti hanno consegnato gli attestati di merito ai frequentatori civili e militari che hanno seguito le elezioni della scorsa edizione.